bella wolfini e bentornati nel longwolf 92 channel siamo tornati finalmente e guardate qui qui sotto proprio qui 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 fifa 20 e siamo qui per aprire un pochino di pacchetti andiamo quindi a vedere quanti giocatori decenti troveremo io non so se voi avete già scaricato gli access se non lo farete tutto però credo che a livello competitivo sia veramente ragazzi importante perché ovviamente ti fa iniziare prima degli altri va bene qui abbiamo qualche regalino vorresti zidanka kai drogba a chi non piacerebbe scegliere grazie grande di die ragazzi troppo bello di die ci siamo abbiamo 36.000 fifa points e io direi di andarci aprire un po di pacchetti intanto vediamo chi è l'icona in prestito è lui patrizio rega iniziamo subito così patrizio dice ricordati di me che lo scorso anno mi hai utilizzato con la mia testa ne abbiamo fatti tanti di gol andiamo subito ad aprire il primo vediamo raga il primo mi sento che è ottimo mi sento che è ottimo vediamo un po ecco per niente della grecia difensore centrale arsenal socrates che giocatore socrates beh ragazzi non male come primo pacchetto non male io già già mi sento che qui c'è qualcosa di potente di pazzesco vediamo un po terzino destro busto non so perché rega ho visto che era tipo una carta meravigliosa perché pensavo fosse chissà che cosa vabbè questo è buono questo è ottimo questo chi è biglia non poteva mancare biglia ragazzi ogni anno 80 biglia come minimo si trovano beh datecene un altro uno tosto uno muscoloso sempre un mezzo biglia vedi un gabriel ma abbiamo capito in base a dove si ferma è più figo o meno figo il giocatore caramo crediti qui almeno un millino ce lo siamo preso non male non male malissimo ecco il prossimo pacchetto anzi arriviamo a 24.000 ragazzi arriviamo a 24.000 e poi ci diamo una placata citiamo una placata cc santi casorla giocatori così insomma tipo beh pensate un'icona proprio subito muslerino grande muslera certo con i pacchetti da 7500 collini e sakai non è che possiamo prendere chissà che cosa eh però eh oh si sa mai nella vita questo è questo è quello decisivo ne sono certo sono certo che qui ci sarà qualcuno che spacca che spacca di brutto che spacca di brutto è brasiliano è S è del pari san germain signori non ci voglio credere non ci voglio credere subito lui Neymar Neymar subito no ragazzi finalmente dopo anni e anni lo troviamo subito Neymar è un pazzesco no è pazzesco ragazzi è pazzesco subito foto non ci credo non ci credo selfie è subito lui subito proprio lui mamma mia ragazzi vediamo sotto chi c'è no sono contentissimo alla grande vabbè amen va bene oddio non facciamo scherda conferma oggetti attenzione quindi subito dopo c'è subito un altro pacchetto che è vincente ragazzi ne sono certo ne sono certo vediamo un po' vabbè raga subito subito arriviamo a 28000 crediti dai tanto più o meno nell'editing che vi farò che vi avrò fatto nel video molti dei pacchetti li ho saltati perché ragazzi ci sono dei giocatori pazzeschi c'è terrificanti a trovare subito lui è è follia pura attenzione è spagnolo quando va avanti così impazzisco raga biglia reale però chi è è Raul Albiol mi piace troppo quando va avanti c'è te emoziona capite dai facciamo così ultimi tre pacchetti gli ultimi tre pacchetti ragazzi ultimi tre pacchetti vediamo qui chi c'è qui chi è ad pavonna pavonna prossimo pacchetto pacchetto che potrà definire che potrà definire se troveremo un altro nei mari perché lo sentiamo ce lo sentiamo ce lo sentiamo subito è proprio lui un'altra volta le ice sono due volte che trovo le ice ultimo pacchetto signori ultimo pacchetto e poi andiamo a vedere insomma tutti i giocatori che abbiamo trovato eccolo qui terzino sinistro Zinchenko andiamo a vedere subito la nostra rosa eccolo qui proprio lui il mitico Neymar raga non c'ho già la più palliera di quanto vale anteprima selezione qui già lo vendono a 5,20 un milione ma è chiaro che poi non ci sono in tante persone che hanno i crediti adesso quindi non ho più poi è idea di quanto potrà costare ragazzi cioè è pazzesco veramente sono molto molto contento perché abbiamo trovato tanta roba poi c'è Buffon insomma Socrates abbiamo trovato due volte Santi Casorla Biglia Raul Albiol Pedro insomma le altre in realtà veramente G-Road David Neresh detto ciò ragazzi ce ne andiamo qui con un Neymar lasciate tanti like e noi ci vediamo presto con un prossimo video mi raccomando raga questo è l'anno che troviamo tutti oltre a Neymar troveremo Didi e Drogba perché quello è il nostro scopo ciao ragazzi al prossimo video